Io stavo guardando l'antarice invece stavo facendo forse chissà da un minuto l'ho uscito. C'è la santuffa qua. Il vulcana di forse a che ora? A che ora? A che ora? Alle 15.42 l'ho uscito. Purtroppo bisogna dire che il vulcana di forse è stato preceduto nella sua eruzione da eruzione al bivio a casa di misi, la valle, non so cosa di preciso, e il cantarice superiore, in questa zona qua, hanno preceduto l'arrivo del vulcano di forse. Ma se andavano insieme, non lo so, sono stati più sbretti, ho fatto stare che così è successo. Non mi affidavamo stesso. sono stati più sbretti, ho fatto stare a Anderля, non lo so, sono stati più sbretti, ho fatto stare a me sbretto, la nuova, non lo so, sono stati più sbretti. Un po' di questi luci, continuano queste nuove, Però il vulcano di corsi oggi è stato sempre presente, verso mezzogiorno, luna, si vedeva sempre il raso guerra lì al cancelleto, con qualcosa di bianco, forse è stato presente parecchie ore, cosa hai fatto stamane, non lo so... Vedi qua... ma io chiuderei qua perché oggi è una giornata strana veramente